Ciao a tutti, eccoci qua, la mia prima ricetta individuale da Magna Magna Blogger dopo che ho bocciato la ricetta di Ioletta, anzi scherzo, è indisponibile la Ioletta a fare ricette causa gravidanza oggi andremo a preparare la grandissima crema pasticcera del maestro Iginio Massari ora vi illustrerò quelli che sono gli ingredienti per questa crema pasticcera innanzitutto abbiamo 500 grammi di latte, intero preferibilmente, la scorza di un limone, due baccelli di vaniglia abbiamo poi 130 grammi di zucchero, 125 grammi di tuorli e infine 40 grammi di amido di mais andiamo a preparare la crema pasticcera, quindi versiamo innanzitutto in una pentola i 500 grammi di latte dopodiché aggiungiamo la buccia del limone e infine anche i semi e i baccelli di vaniglia mi raccomando con le dosi perché la vaniglia è un aroma molto molto forte a fiamma bassa quindi portiamo ad ebollizione il nostro latte in un nuovo tegame quindi andiamo ad aggiungere i tuorli lo zucchero e poi infine i 40 grammi di amido di mais in modo da dare più consistenza alla nostra crema pasticcera e andiamo a mescolare con una frusta quindi mescoliamo in questo modo dunque questa la consistenza di questo composto cremoso ma non montato completamente una volta quindi che il latte ha cominciato a bollire lo versiamo in tre botte all'interno del nostro composto quindi uno e continuiamo a mescolare e questo lo facciamo per tre botte continuiamo quindi la cottura mescolando continuamente ragazzi guardate come sta prendendo consistenza la nostra crema pasticcera questa ombra gialla che vive dal centro è appunto la crema che sta addensando continuiamo a mescolare intanto ok ragazzi la crema si è addensata spegniamo il fuoco la dobbiamo far raffreddare velocemente quindi per far raffreddare quanto più velocemente la nostra crema pasticcera abbiamo messo una ciotola nel congelatore e adesso ci versiamo dentro la nostra crema pasticcera in questo modo guardate e continuiamo a mescolare e continuiamo a mescolare fin quando la nostra crema da un giallo forte sarà passato ad un giallo un po' più limpido facciamola andare ai bordi che sono ancora freddi e continuiamo a mescolare con la nostra frusta quando la crema pasticcera avrà raggiunto questo colore diciamo un po' più lucido è pronta guardate qua che spettacolo ragazzi pronta per le nostre zeppole di San Giuseppe di domani ovviamente nella mia rubrica non può mancare la prova assaggio di questa bellissima crema pasticcera che ho fatto tra l'altro per la mia volta guardate che consistenza, che spettacolo signori buon appetito 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 buon appetito